Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. È sera, ma era l'unico momento della giornata in cui avevo tempo per potermi dedicare al mio allenamento. In questo caso ho appena finito di allenare le spalle e per concludere, siccome come ben saprete sono in fase di definizione per la preparazione del viaggio di nozze, andrò a fare un circuito metabolico. Questo circuito avrà una durata di 10 minuti, continuerò a lavorare leggermente sulle spalle, cercherò di fare un movimento esplosivo che sarà lo squat jump. Come potete vedere in realtà ho già allestito il nostro giardino con la nostra attrezzatura. Abbiamo un bilanciere con 20 kg di carico, quindi 40 kg totali perché è un bilanciere olimpionico da 20 kg, con il quale andrò a fare un push press sempre per andare a sfinire le spalle appunto avendole appena allenate. Dopodiché abbiamo il nostro box pliometrico o pliobox dove invece andrò ad eseguire dei box jump, ok? E in seguito andremo a lavorare sulla parete addominale andando a fare dei crunch inversi proprio seduti sul pliobox. Come potete vedere dallo sfondo l'attrezzatura è in partnership con King's Gym, che ringrazio, poiché mi ha fornito questa attrezzatura veramente di ottima qualità e infatti vi lascio qua sotto il link del loro sito e utilizzando il mio codice Gymotto avete il 5% di sconto su tutto il sito. Ci tengo a dirvi che anche io ho acquistato sul sito di King's Gym prima ancora di iniziare una collaborazione con loro. Questo per dirvi quanto secondo me effettivamente il rapporto qualità-prezzo era alto sul loro sito. Quindi sono davvero contento di poter annunciarvi questa collaborazione e appunto se vi servisse qualcosa, se dovete concludere la vostra home gym e vi manca qualche piccolo attrezzo, visitate il sito di King's Gym perché sicuramente troverete ciò che fa per voi. Ma adesso iniziamo con il nostro allenamento metabolico. Ok, facciamo partire il nostro allenamento e mettiamo cross training. Pronti? 3, 2, 1, via! 3, 2, via! 3, 2, via! 3, 2, via! Avendo le spalle già leggermente cotti adesso inizierò ad aiutarmi un po' con le gambe. Grazie per la visione! Grazie ancora un po' di fiatone ma il circuito terminato, battiti ancora alti, dispendi energetico per 10 minuti di questo workout metabolico se volete provarlo, nel mio caso, quindi a livello soggettivo, sul mio peso, sul mio metabolismo, siamo intorno alle 140 calorie bruciate in circa 10 minuti, quindi un ottimo dispendio nel rapporto alla tempistica. Ovviamente ero già un pelo affaticato perché avevo appena finito l'allenamento di spalle e quindi fare un push press mi ha portato già all'alimento il muscolo ma era una cosa voluta, quindi positiva. Che dire, ancora una volta ringrazio King's Gym per questa splendida attrezzatura e io non posso che salutarvi e dirvi che ci vediamo in un prossimo video. Da G-Mate è tutto e ciao!